Domani giovedì 13 giugno alle ore 20.30 si giocherà gara 4 tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna. E questa gara potrebbe essere quella definitiva perché se l'Olimpia Milano riuscirà a vincere vorrà dire la conquista dello Scudetto. Ieri abbiamo visto gara 3 in cui c'è stata la vittoria dell'Olimpia Milano, una vittoria sofferta perché di stacco è stato minimo, ha vinto 81 a 78. Quella di ieri è stata veramente una gara molto difficile, bella combattuta e quindi vedremo domani come finirà. Scrivi la tua opinione nei commenti, ti invito anche ad iscriverti al mio canale YouTube ed attivare la campanella per rimanere aggiornatissimo sui prossimi video di uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao! Ciao!